I studi di rete 4 si riempiono di grande allegria con il gioco che coinvolge tutti gli italiani la trasmissione brillantemente condutta da Claudio Lippi che porta nelle vostre case tanti personaggi campioni di simpatia una serata diversa in un'atmosfera di genuina solidarietà giochiamo tutti insieme porta aperte con il buon paese domani alle 20 e 30 su rete 4 Grazie a tutti.